350 grammi di farina, 140 grammi di zucchero, 90 grammi di olio d'oliva, 40 grammi di miele, 5 grammi di noce moscata, 4 grammi di lievito per dolci, 5 grammi di zenzero, 3 grammi di sale, un uovo intero più un tuorlo. Frulliamo le uova aggiungendo a filo l'olio, in questo modo ci permetterà di ottenere un burro all'olio d'oliva. Lo versiamo nella planetaria, aggiungiamo lo zucchero di canna, il miele, la noce moscata e lo zenzero. E andiamo a mescolare. Nel frattempo setacciamo la farina, il lievito per dolci e il sale. Inseriamo le farine nel composto e lo lavoriamo velocemente. È molto importante lavorarlo velocemente perché evitiamo la formazione del glutine e quindi un biscotto troppo duro e troppo tenace. Impastiamo il tutto velocemente. E andiamo a coprire con la pellicola e facciamo riposare per 30 minuti. Andiamo a stendere ad uno spessore di 2 o 3 mm. Andiamo a dare una forma che più ci piace, in questo caso l'ho voluto fare in forma natalizia. Inforniamo a 180 grandi in forno statio fino a doratura. Ed ecco pronti i nostri biscotti. Vado a spolverare con dello zucchero a velo di canna. I nostri biscotti sono pronti. E aí Grazie a tutti.